Ciao miei cari follower, benvenuti nel mio canale, potete trovare tutti i gossip che vi incuriosiscono sulle celebrità sul nostro canale. Puoi seguire il nostro canale per video meravigliosi dei nostri famosi attori Tagba Bujukustun e Engina Kurek. Lo ha annunciato più volte negli ultimi giorni il famoso attore Engina Kurek, molto conosciuto nel mondo delle riviste, e la sua agenda è arrivata con una chiamata a sorpresa. Il richiamo alle lacrime del bambù del famoso attore ha preoccupato i suoi fan e ha suscitato curiosità. Engina Kurek è stato spesso al centro dell'attenzione nel mondo delle riviste con i suoi successi sia nella sua carriera che nella sua vita privata, ma Kurek, che ultimamente era rimasto in silenzio, è apparso misteriosamente anche questa volta. Il famoso attore, in una dichiarazione rilasciata ad una nota rivista, ha svelato i segreti che si celano dietro una telefonata a sorpresa avuta di recente. Anche se i dettagli della telefonata non sono ancora conosciuti, le lacrime che sgorgano dagli occhi del cuore più peccatore dimostrano che questa la chiamata si basa su una conversazione profonda è impressionante. A Kurek, che ha evitato di fornire troppi dettagli su quanto accaduto durante l'incontro, ha affermato quanto segue. È un momento molto speciale e ci sono alcuni sentimenti che voglio condividere, ma non voglio fornire dettagli ad esso. Tuttavia, le sue espressioni sincere e il significato nei suoi occhi hanno aumentato ancora di più la curiosità di molte persone. Ci sono varie speculazioni nel mondo delle riviste su quale tipo di trasformazione questa cosiddetta sorpresa potrebbe portare nella vita privata e nella carriera di A Kurek. Anche se è ancora un segreto con chi si è tenuto il discorso e quali argomenti sono stati discussi, i loro fan e follower aspettano questi eventi con grande curiosità. Oltre al successo della carriera, Engina Kurek continua anche la sua vita privata, che non è un argomento su cui spesso si interroga il mondo paterno. Il segreto della chiamata a sorpresa del famoso attore non sembra essere risolto a breve. Sono in molti però a sperare che questo misterioso incidente venga chiarito con maggiori dettagli nei prossimi giorni. Grazie per aver guardato il nostro video. Spero di vederti in nuovi video. Arrivederci!